Oggi parliamo dei falsi amici e non degli amici falsi, ovvero quelle parole che in un'altra lingua sono simili a una parola della tua ma con significato completamente diverso. Die Firma non significa la firma ma l'azienda, la ditta. Die Kantine che non è la cantina ma la mensa. Der Kompass non è il compasso ma la bussola. Der Bau non è il verso del cane perché quello in tedesco è Wau Wau. Der Bau è la costruzione, infatti die Baustelle è il cantiere o sono i lavori in corso. Ultimo, che sembra facilissimo, confetti. In realtà non sono i confetti ma sono i coriandoli. Conoscete altri falsi amici della lingua tedesca? Scrivetemeli tutti qui sotto nei commenti. Bis bald!